Va bene Svoltiamo qua Si si, svoltiamo qua Ma se tipo faccio finta di sbagliare, vado dritto? Possiamo fare 30 km Si, però c'è lì la gente che aspetta, sai com'è? Ma ci incazzano che c'è Eh, se ti vedono andare avanti così Mi danno verso maro a me O voglio passare verso maro dai Non so Cerca di capirvi Tutti hanno detto questa frase Quando si sono trovati qua, ma se andiamo dritto Devi quasi fermarti A meno che all'ultimo momento non vedo che non c'è nessuno Non si vede niente Si fa neanche uno specchio Qua? Si, lì ci vuole uno specchio Lì ci vuole uno specchio Lì ci vuole uno specchio Ho fatto un grande lavoro con questa super strada Qua però ho attoppato alcune cose Qui giriamo verso Interport Meri per sempre Meri se n'è andata via Eh, Meri va via domani Sì Peccato Qui dobbiamo girare dentro sai Perché uno ieri è andato anche dritto Posso farlo anch'io? No Ah perché l'ho fermato Non ho fatto l'entro marcia Vabbè anche l'entro marcia Ah Claudio è già andato Pianino ecco Se avessi avuto la carne Se avessi avuto la carne La carne appesa Ok? L'avresti già ribaltato otto volte Povera carne La carne appesa Sai che la carne viaggia appesa? Sì, non l'abbiamo un frigo Non lo so Eh Anche se avessi avuto una sisterra L'avrei ribaltata Del latte sicuro Ma eh Andiamo sotto No dai Ecco Un amico tu Eh? Un amico tu Sì Allora la retro La retro è così Ok Meri per sempre Quando vieni a trovarmi la prossima volta? Eh non lo so Guarda Ho degli zii che vivono a Vicenza Eh sì Vicenza Lontano Lontano i gatti Eh non lo so Per questo non ho portato il mio Vicentini maniagati Lo so Lo so Beh mio zio è sardo di origine Però i miei cugini sono nati tutti lì N Polla Un attimo Ma tanto anche se lo lasci lì Lui praticamente In Fatta solo Sì Eh La frizione Se tu scendi così Scendevi così Resta praticamente come se avessi il pedale premuto Capito? Il ponteggio tuo comunque con tutto il casino che hai fatto È un 83% Che non è proprio male Eh Un motivo ci sia Pensavo fosse tornato qua Però Ma segnalano Adesso